Poi? Beh, ti dico io che cosa è successo. La giornata sta terminando e... Il bidone della spazzatura è ancora pieno. Dovevi pagare la fattura del pittore. E non è, non dico compilato, non è tantomeno accennato a pregare una mezza cifra sull'assegno, non è tantomeno hai preso il libretto per gli assegni nuovi. Poi che altro dovevi fare? Ah, il cellulare ora si spegne perché la batteria scarica. Non hai lavato la macchina. Un sacco di cose, come solito l'hai combinato un cazzo la sceneggiatura, non l'hai letta, l'hai fatto un cazzo. Ma poi ti spalusce, ti fa, poi ti spalusce. Niente, non l'hai manco letta la sceneggiatura, niente. Ma niente, anche un video, uno sta a casa a studiare alla sera e lo neanche a studiare. Ma non nada, che cazzo leggo?